musica 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 e oggi siamo su una nuova probabile serie ovvero gli horror a 360 gradi si perchè su youtube si possono fare anche video a 360 gradi e ho visto che sono degli horror davvero spaventosi e ne ho scelti alcuni, ne ho scelti 2 e 3 per oggi ora dipende dalla durata del video e iniziamo subito con il primo che è su fnaf e iniziamo bene ok per una migliore esperienza uso le cuffie io mi sono già procurato le cuffie musica 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 ciao ma che ok 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 su questo l'avevo capito dove mi hai portato Perchè mi teletrasporti? Ok Basta! Ok dove mi hai portato? Va bene! Vediamo quanto puoi farlo Ma non ho capito bene Che cosa c'è in questa casa Io non sto notando nulla A parte la cam che cambia spesso Ok Aspetta Ah è la lampadina che si muove Bene Cocco Freddy Oh mio dio La tv di nuovo Chiunque uscirà da quella tv Ma nessuno La porta si apre E non è un buon segno Chiunque tu sia Nessuno Come nessuno Perchè la porta è aperta Chi è? Chi è? Oddio Chiunque tu sia Nessuno? Oddio 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 no no è lui e freddi ciao freddi e cosa no ma che 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 non sto capendo niente ragazza veramente non mi direi che c'è anche qua freddi oh mio dio mok salve signor freddi ma lei è dappertutto signor freddi hey you're here congratulations i'm surprised but proud of you at the same time next time it won't be so easy in fact film your friends film anybody you know doing this challenge and let's see if we get some good reaction videos i'll post the best one to black box tv va bene non mi sono spaventato proprio assai però dai mi ha messo un po di ansia mi aspettavo di meglio passiamo al prossimo video che su blo di meri e qui un po di cagarella c'è si spera ok inizia una bella musica oh ma che bel bagno cosa dovrei fare in questo bagno bloody mary no no bloody mary ok ho visto la luce che se ne andavo a puttana qui è tutto che cosa che cosa ma sto sognando quel mobile si sta alzando no 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 da vicino ok Ma che che Bene No, no dove stai andando Dove stai andando Vai incontro la morte Eh vabbè E calma la zia eh No Dove vuoi andare Un campanello a caso Lo vuoi andare ad aprire Butta un quadro a caso Qualche altro mobile si va ad alzare Va bene Ma che Ma che Ma che Ma che Va bene Credo possa bastare per l'inizio Diciamo me lo aspettavo forse il finale Cioè sembrava un po' scontato Va bene raga di richiudere qua questo primo episodio degli horror a 360 gradi E' giusto diciamo un assaggino di quello che possiamo vedere in questa serie Spero che vi sia piaciuto Se vi lasciate un like Iscrivetevi al canale E se trovate altri video più spaventosi di quelli che abbiamo visto oggi Lasciatemi il link nei commenti Mettete un passaggio a Facebook Trovate un link in descrizione con altri social E niente Noi ci vediamo al prossimo video Bella a tutti raga Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti